Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù Signore, Dio di bontà e di misericordia, che nella vostra vita terrena, passaste facendo del bene a tutti, glorificate il vostro servo fedele Don Filippo Rinaldi, la cui vita fu un raggio della vostra carità, umiltà, e pazienza. E concedeteci per la sua intercessione la grazia. Che umilmente vi domandiamo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Beato Filippo Rinaldi. Pregate per noi.